Siamo orgogliosi che a distanza di 11 anni l'ACLI abbia scelto di nuovo la città di Pesaro per quella che è l'iniziativa più importante dell'ACLI, Sporting Tour, che sarà suddiviso su due weekend di giugno. I primi due avremo migliaia di atleti di ogni età perché ricordo che l'ACLI è un ente di promozione sportiva che fa attività sportiva dai bambini alle persone un po' più grandi. Le discipline sportive saranno tante, quindi tutti gli impianti sportivi della città saranno a disposizione per questo grande evento. Si riparte, era un evento che dovevamo ospitare nel 2020 che purtroppo causa pandemia e non l'abbiamo potuto ospitare, però ringraziamo perché comunque l'ACLI ha comunque scelto di mantenere l'evento sulla città di Pesaro a distanza di due anni. Un momento importante perché corona un anno di attività sportiva, è il momento in cui concludiamo con tutte le fasi finali delle attività sportive, quindi dopo le selezioni dei provinciali e regionali, ma soprattutto è un momento di grande festa del nostro popolo, del nostro mondo perché abbiamo, abbiniamo sempre, e questa è la peculiarità diciamo di essere ente di promozione sportiva, abbiniamo l'attività convegnistica, corsi, seminari, momenti di riflessione alle attività sportive. Per cui è il momento in cui riusciamo a convogliare in un'unica, come dire, località e in un unico grande villaggio tutto il nostro mondo, il nostro popolo. Grazie a tutti.